Riapre il Trianonvidiani e riapre alla grande, con Nino D'Angelo, Io senza giacca e cravatta, da venerdì 2 dicembre 2016, uno spettacolo speciale, completo e esclusivo, canzoni, prosa, poesia, luci e magia, racchiusi in più di due ore, appassionanti e coinvolgenti. Io senza giacca e cravatta, Di e con Nino D'Angelo, da venerdì 2 dicembre, al Trianonvidiani, il teatro del popolo, il teatro di Napoli.